È un momento di confronto ed è un momento, credo che sia indispensabile anche, dopo due giorni di lavoro che abbiamo fatto, per chiedermi, non so, spiegazioni, consigli, opinioni. Perchè? Perchè capite il motivo e si capisce l'importanza di ogni cosa. Io quello che proprio citerai tanto è che voi capiate che alcune volte con poche cose fatte bene, perché è la cura del dettaglio che fa la differenza, voi trasformate i cavalli. Non è mai un lavoro solo sul cavallo, è sempre un lavoro sul binomio. E quindi sono un po' dell'idea che alcune volte per aiutare i cavalli bisogna passare dalla testa dei cavalieri e quindi poi si aiuta tutto. Allora, di quello che ci ha insegnato Laura Cons, credo che oltre alla parte tecnica, la cosa che mi resterà più impressa è stare attenti al dettaglio, perché come dice lei, il dettaglio fa la differenza. Perchè? 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 Perchè?